Buonasera da Infostudio, è un mistero ma solo fino ad un certo punto l'omicidio di un uomo di 33 anni e di origini calabresi assassinato insieme alla fidanzata a Toronto Toronto è una delle città più multietniche e multiculturali del mondo ha circa 2 milioni e 800 mila abitanti e di questi 2 milioni e 800 mila abitanti 500 mila sono italiani, anzi gli italiani hanno contribuito in maniera determinante allo sviluppo della megalopoli canadese e nella città di Vaughan che fa parte della cosiddetta grande area di Toronto c'è un quartiere Woodbridge nel quale ci sono quasi solo italiani, ci sono moltissimi calabresi e in questo quartiere a poca distanza dal ristorante di cui sono proprietari i suoi familiari che è caduto due notti fa Cosimo Commisso, 33 anni, ucciso insieme alla fidanzata che si chiamava Chantelle Almeida, una ragazza di origini sudamericane ma di Toronto 26 anni che sono stati sorpresi a bordo di un SUV bianco che avete appena visto nelle immagini e colpiti da una raffica di proiettili alcuni residenti hanno raccontato di aver udito gli spari poi una pausa, anche un grido probabilmente poi un'altra raffica, stavolta definitiva le vittime sono state dichiarate decedute sul colpo all'arrivo dei soccorsi la polizia canadese ha chiesto aiuto a chi possa aver filmato la scena con un telefonino ed analizzerà ovviamente le immagini delle videocamere di sicurezza per quanto riguarda la dinamica si sa che la Mazda era ferma a bordo di un viale le indagini adesso sono concentrate sull'esigenza di capire se le vittime siano state uccise all'interno dell'auto perché avete visto prima dal fermo immagine ma anche da diverse foto che sono facilmente intracciabili su internet i finestrini del SUV sono andati in frantumi però le portiere erano aperte quindi è possibile che una o entrambe le vitti abbiano cercato di fuggire dalla macchina quando sono iniziati gli spari come ho già detto la famiglia Commisso cognome arci noto nella Locride soprattutto a Siderno e anche quello di una cosca molto temuta dicevo la famiglia Commisso possiede un ristorante ed un bar a Woodbridge e fra l'altro proprio in questo quartiere in passato ci sono stati altri fatti di cronaca nello scorso settembre un uomo ha sparato ad un cameriere proprio nel ristorante di proprietà dei Commisso poi c'è stata un'ondata di incendi dolosi, di sparatorie, di attentati incendiari che hanno coinvolto bar, caffè e case di abitanti di Bon che avevano legami con membri famosi della mafia italo-canodese per gli investigatori Commisso che pure aveva un profilo criminale irrilevante anzi probabilmente era privo di precedenti penali era però socio in affari di quel John Ignagni di 33 anni che venne ucciso in un'imboscata nel parcheggio di un condominio nel centro di Toronto nel 2016, fra l'altro nel settembre del 2000, nel giugno anzi nel giugno del 2015 quindi esattamente tre anni fa proprio nella città di Vaughn che comunque ripeto fa parte del distretto di Toronto venne uccisa una donna di origini calabresi Maria Voci di 47 anni probabilmente per sbaglio l'obiettivo dei killer che comunque riuscirono ad assassinarlo era Christopher De Simone di 24 anni vennero entrambi uccisi in una caffetteria da tre anni però non si verificavano omicidi sta di fatto che il sospetto che in qualche modo si possa essere trattato di un agguato ammatrice andranghetista è molto alto, molto forte i carabinieri hanno scoperto due piantagioni di canapa una a Siderno, l'altra a Bovalino una piantagione con 1.400 arbusti è stata scoperta a Siderno si tratta di piante di altezza tra i 50 e i 2 metri e ad annaffiarla c'erano Vito Passafaro che vedete 50 anni ed Andrea Cara di 23 che vedete adesso che sono stati arrestati e posti ai domiciliari la piantagione di canapa era in una zona nascosta da fitta vegetazione poi c'era anche una casa disabitata che era usata per essiccatoio e lì dentro sono stati trovati ben 21 chili di marijuana altre 900 piante di cannabis di altezza tra i 50 e i 2 metri e i 2 metri sono state scoperte invece dai carabinieri a Bovalino su due piazzole in Contrada Pozzo quella ripeto di Siderno aveva ben 1.400 arbusti e qui vedete avete visto la casa disabitata usata come essiccatoio ieri sera un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'auto il fatto è che era ubriaco e si è addormentato tra due auto che erano in sosta una donna che aveva appena assistito ad uno spettacolo teatrale è tornata nella macchina si è seduta, ha messo in moto e lo ha investito senza in pratica accorgersene e poi chiaramente si è fermata l'uomo è stato portato nell'ospedale di Paolo e poi trasferito con un risoccorso a Cosenza ad essere ricoverato in prognosi riservata a causa della gravità delle ferite che ha subito la conciliazione del tempo di vita e di quello di lavoro è un'esigenza sempre più sentita al giorno d'oggi e c'è una legge che è stata varata nell'anno passato nel 2017 la legge 81 che offre questa possibilità che è tanto più importante chiaramente per le donne perché le donne sono anche madri e sono anche mogli e custodi di quello che una volta era chiamato il focolare domestico se ne è parlato a Catanzaro accorciare lo spazio tra la domanda e l'offerta di lavoro attraverso un modello che soddisfi reciprocamente sia le imprese che il prestatore d'opera o la prestatrice perché per le donne il discorso si fa ancora più complesso dovendo a esse badare anche alla famiglia ed ai figli ed è appunto anche per allargare il campo delle opportunità soprattutto per il lavoro femminile che la commissione regionale pari opportunità ha organizzato un incontro presso la cittadella regionale sui benefici e le criticità del cosiddetto smart working il lavoro intelligente e sui tempi di conciliazione di vita occasione che ha reso più efficace l'incontro tra il lavoro femminile e le esigenze del mondo delle imprese che come ha notato la presidente della commissione Cinzia Nava sono purtroppo rarissime quando non inesistenti ma il modello organizzativo basato sulla legge 81 di un anno fa ha creato le premesse perché anche in Calabria si affermino le condizioni per promuovere il lavoro a distanza come già avviene in altre regioni italiane e come sta avvenendo anche in grandi aziende come Barilla e Vodafone facendo sì che le potenzialità professionali di molte donne trovino più larga sperimentazione di impiego conciliando i tempi della produzione e i tempi della vita ho voluto questo evento come presidente della commissione regionale pari opportunità proprio perché penso che sia uno strumento utile soprattutto per l'assunzione delle donne perché il più delle volte le donne che si affacciano al mondo del lavoro devono accettare il part time un contratto part time perché per gestire nell'altra parte della giornata la famiglia e invece applicando questa nuova modalità di organizzazione di lavoro che deriva dalla legge 81 del 2017 è possibile che il lavoratore e quindi nel caso delle donne la lavoratrice madre possa organizzarsi il lavoro senza svolgerlo senza dare la propria prestazione nei luoghi soliti di lavoro quindi all'interno dell'azienda è un accordo individuale che viene fatto tra l'impresa e il lavoratore stesso nulla togliendo alle ore di lavoro e nulla togliendo alla retribuzione queste condizioni rimangono uguali quindi è solo un nuovo modo di organizzare il lavoro stesso misurando nelle ricadute laddove è stata sperimentata la legge ha avuto un notevole consenso nelle aziende che l'hanno adottata sia tra i lavoratori che tra le lavoratrici abbattendo in parte i costi di organizzazione senza che i livelli di produttività ne risentissero il mercato del lavoro è in continua trasformazione sia per le mutazioni imposte dalla tecnologia sia per le modalità del part time la cui crescita ed evoluzione rende necessaria una riflessione che diffondendo la conoscenza dei nuovi strumenti serva a promuovere il lavoro da casa senza che venga visto dal lavoratore come un pericoloso allontanamento dall'azienda il bando è rivolto alle imprese in questo caso alle aziende che hanno poi come destinatario finale le lavoratrici nonché anche i lavoratori delle aziende calabresi la dotazione finanziaria complessiva è pari a 3 milioni di euro ed è sull'asse 8 del POR Calabria FESRE FSE 2014-2020 in particolare l'azione interessata è l'azione 824 che proprio sono le misure del welfare aziendale volte alle famiglie o meglio a questa forma nuova adatte alle famiglie ai bisogni proprio delle famiglie per conciliare i tempi di vita e di lavoro erano disarmati ed avvolto parzialmente coperto i due mancati rapinatori che oggi hanno tentato appunto di entrare nell'ufficio postale di Vibo Marina hanno sottratto le chiavi della porta d'ingresso alla direttrice ma la reazione della donna li ha sorpresi si è messa infatti ad urlare per richiamare l'attenzione e i due hanno deciso di darsi alla fuga poi la donna si è rifugiata all'interno della chiesa del Rosario di Pompei ed è stata lei stessa a far scattare l'allarme telefonando alla sala operativa dei carabinieri ha detto che i due rapinatori erano italiani che parlavano senza particolari inflessioni dialettali adesso la visione delle telecamere sia dell'ufficio postale che delle zone adiacenti potrebbe dare la possibilità agli investigatori di risalire all'identità dei ripeto mancati rapinatori la guardia di finanza di Paola ha sequestrato oltre 650 chili di bombole per uso domestico trasportate a bordo di un autocarro proveniente dalla Campania erano destinate ad essere vendute ad una società agricola del basso tirreno Cosentino erano bombole di capacità tra i 10 e i 25 chili ed erano prive di autorizzazioni avevano anche la falsa indicazione di una nota società del settore anche le revisioni tecniche erano irregolari adesso il responsabile rischia una sanzione amministrativa fino a 50 mila euro ha litigato con la fidanzata ha dato in escandescenza ha piccato due incendi di sterpaglie nei pressi di un villaggio turistico poi si è barricato in un bungalow e minacciava di incendiare anche alcuni vestiti e il pericolo a quel punto sarebbe stato anche per se stesso alla fine lo hanno arrestato non senza difficoltà perché ha anche resistito e ha danneggiato l'auto di servizio della polizia con pugni e calci è un romeno di 51 anni una volta il marmo di Gimigliano era famoso in tutto il mondo testimonianze resistono tuttora pensiamo alla piazza di San Pietroburgo la basilica di San Giovanni in Laterano la chiesa del Gesù di Napoli e della pietra verde del marmo verde di Gimigliano sono strapiene le chiese calabresi di almeno gli ultimi tre secoli l'estrazione è avvenuta fino agli anni 50 adesso le cave sono in disuso ma a Gimigliano non hanno dimenticato è stato inaugurato il museo della pietra verde era una vecchissima aspirazione in un palazzo che è stato donato da una famiglia di notabili sentiremo tra poco di chi si tratta e anche il parco fluviale inoltre questo progetto che il comune ha avuto il merito di attuare potrebbe inserirsi anche in quel più complessivo progetto di valorizzazione dei borghi cui la regione sta attendendo e di recente ne abbiamo parlato più volte Gimigliano vede realizzata una vecchia aspirazione l'inaugurazione del museo della pietra verde nell'antico palazzo Mirabelli appartenente alla famiglia del presidente emerito della corte costituzionale Cesare Mirabelli che è originaria proprio del comune della presila catanzarese e che lo ha messo a disposizione della comunità a cui appartiene dopo un meticoloso lavoro di restauro il palazzo è ora sede del museo della pietra verde il pregiato marmo verde di Gimigliano che ha reso famoso questo piccolo borgo della Calabria e che in passato gli ha anche garantito ricchezza il marmo verde estratto a Gimigliano è stato utilizzato per diversi secoli in Calabria e dall'estero sia come rivestimento per abitazioni civili e palazzi gentilizzi sia per realizzare scalinate lastre per balconi ornamenti esterni di portoni e palazzi e che si trova in moltissime chiese dagli altari alle colonne dalle gradinate ai rosoni come lastra tombale o acqua santiera in marmo verde di Gimigliano sono alcune nicchie della basilica romana di San Giovanni in Laterano la scalinata della chiesa del Gesù a Napoli quella del museo d'arte contemporanea di Catanzaro e perfino alcune parti della piazza centrale di San Pietroburgo la vecchia cava è ormai indisuso da più di mezzo secolo ma per Gimigliano questa operazione di recupero della memoria è estremamente importante qui c'era un'attività estrattiva risalente agli anni 40 e 50 che costituiva un reddito diciamo sostanzioso per le famiglie che ci lavoravano questa pietra è presente come ornamenti sacri in tutte le chiese e anche nella chiesa di San Pietroburgo quindi per noi un vanto è valorizzare queste cose è un dovere da parte dell'amministrazione comunale questo è un segnale chiaro che va contro lo spopolamento dobbiamo cercare di ripopolare i nostri centri storici dobbiamo cercare di riprendere quelli che sono i nostri valori le nostre identità e quale migliore occasione era quella di valorizzare una cosa naturale come il Corace è un palazzo storico sito nel centro storico come Palazzo Mirabelli tutte le architravi sono in legno e sono del vecchio legno di castagno recuperato sul posto e così via anche la pietra verde di Gimigliano che è quella originale dell'edificio tutte le opere sono state realizzate diciamo con un cantiere minimo in maniera tale da non creare neanche grossi problemi all'interno del centro storico che è caratterizzato dall'avere piccolissimi spazi di manovra siamo riusciti a restituire dignità e importanza a questo vecchio edificio mantenendo il budget di progetto e in un tempo dell'ordine di un anno insieme al museo della pietra è anche stato inaugurato il parco fluviale lungo il fiume Corace realizzato con fondi europei nello spazio del parco si trovano l'orto botanico un lago e percorsi naturalistici che dalla basilica della Madonna di Porto conducono proprio fino all'antica cava di marmo verde un progetto pensato per la valorizzazione del vecchio borgo e sul quale l'amministrazione ha intenzione di puntare ora che la regione sta per pubblicare il bando per la valorizzazione dei piccoli borghi sia come al trattore turistico sia per scongiurare il rischio dello spopolamento era il servizio di chiusura per questa sera ma vi ricordo che dopo di noi torna Francesca Rettondini con il viaggio di Francesca andrà in replica anche alle 22.50 quindi più tardi restate con noi seguiteci oggi ancora Francesca è tornata ad Altomonte noi ci rivediamo con il telegiornale domani alle 13.50 buona serata domani alle 13.50